Domani nuova straordinaria opportunità di visitare i beni culturali siciliani con il biglietto di ingresso al prezzo simbolico di un euro. La regione siciliana, su indicazione dell'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, ha aderito alla Notte Europea dei Musei, l'appuntamento annuale che si svolge contemporaneamente nei musei di tutta Europa. A partire dalle 19 fino alle 23 di sabato, in alcuni siti anche alle 24, sarà possibile visitare i principali musei regionali della Sicilia, molti dei quali per l'occasione proporranno visite guidate e allestimenti particolari. La Notte dei Musei promuove la cultura, sottolinea l'assessore regionale Alberto Samonà, e invita soprattutto le famiglie ad avvicinarsi all'arte e a coltivare la bellezza. Occasioni come la Notte Europea e le domeniche con ingresso gratuito costituiscono un forte incentivo alla conoscenza del nostro ricchissimo patrimonio di opere d'arte. Avvicinarsi ai luoghi della cultura, scoprire la storia della nostra isola e di coloro che la abitarono, portare i bambini al museo è il modo migliore per conoscere la Sicilia, la sua identità, la sua dimensione universale. È il modo migliore per tornare a essere consapevoli della nostra Sicilia, una terra unica al mondo nonostante le tante troppe ferite subite. Per celebrare la serata molti dei musei siciliani hanno programmato iniziative speciali. Per una maggiore certezza dell'orario di apertura e delle proposte di visita è sempre però consigliabile consultare la pagina web o Facebook delle singole strutture museali.